Il tempo è poco e la squadra è ancora tutta da formare. È un cantiere aperto, quello del nuovo Cesena, che in questi giorni si sta riunendo sul campo della sua vecchia dimora, quella del Romagna Centro, per sostenere i primi allenamenti guidati da Giuseppe Angelini, in attesa di trasferirsi in quello che i giocatori impareranno a chiamare casa, il campo di Villa Silvia. Chi quella casa la conosce bene è il centrocampista Davide Biondini, Cesenate e Doc, avvistato in questi giorni a Martorano, e libero sul mercato anche se reduce da un'ultima stagione col Sassuolo costellata da infortuni. Al momento però tutto è fermo, si attende l'arrivo di quello che per ora è stato il primo vero acquisto del Cesena, il direttore sportivo Alfio Pelliccioni, che il tecnico Angelini attende a braccia aperte. Bisogna aspettare lui per programmare un po' tutta la stagione, tutto amichevoli, queste cose qui. Qualcuna l'avevamo già fissata, però bisogna vedere se riusciamo a farla. Prima di tutto bisogna fare la squadra, siamo un po' in ritardo, quindi molti giocatori si sono già casati, quindi una volta che sarà costruita la rosa, la squadra, poi andremo a vedere come sarà, come non sarà, tutte le altre situazioni. Soddisfatto quindi della scelta di Pelliccioni, non avete ancora parlato? Sì, soddisfatto, c'erano tanti nomi, io ho lasciato decidere la società come giusto che sia, quindi quando mi chiedevano se lo conoscevo, dicevo sì e davo il mio parere, però la decisione l'ha presa la società. Comunque sono contento di altre perizioni.